Poi, più aiuto che ha bisogno, molto semplice, io ho portato le pensioni per 1.835.000 pensionati a 1.000 lire e a loro bastavano per arrivare alla fine del mese. Poi è arrivato lo sciagurato cambio della lira in euro. Questi nostri due campioni Ciampi e Prodi hanno accettato il cambio a 1.936,27 lire. Tutti noi che avevamo risparmi in lire abbiamo avuto un dimezzamento del valore delle nostre lire, un dimezzamento del nostro potere di acquisto. Chi aveva il milione si è trovato a 536 euro. Con 536 euro sfido chiunque ad arrivare dignitosamente alla fine del mese. Questi signori, questi 600.000, non hanno un altro modo per vivere se non commettendo reati. E voi sapete quanti reati si commettono in Italia oggi. Un reato di strada ogni minuto, un furto in appartamento ogni due minuti e mezzo, un furto di auto e di moto ogni quattro minuti, un furto da voi nei supermercati e nei vostri centri ogni 5 minuti, quando poi vanno negli appartamenti, i carabinieri che vanno a rivedere trovano per prima cosa svaliggiato il frigorifero. Con tutti i contenitori per terra. Il contenuto dai contenitori se lo sono mangiato. Una signora aveva mezzo litro d'olio, si sono bevuti anche quello. Io ho detto no, l'avranno messo in una boccetta. No, abbiamo trovato le impronte delle labbra. Quindi questa è la situazione attuale a cui noi dobbiamo fare assolutamente fronte. Grazie al Presidente Berlusconi. Rimanete seduti perché arriva Grazio. Allora no, un minuto. Oggi le elezioni le può vincere solo il centrodestra. Il centrodestra negli ultimi sondaggi è al 39-40%. Col 40% per il sistema elettorale si acquisisce una maggioranza sia alla Camera che al Senato. Dall'altra parte ci sono i 5 Stelle che sono al 27-28%. Troppo lontani quindi dal 40% da poter arrivare al 40% nei giorni che mancano al 4 di marzo. Ma è assolutamente importante, assolutamente importante che gli italiani vadano a votare.